Siamo arrivati al punto in cui si sono mostrate incompatibili le ragioni di chi testimonia l'olocausto e chi l'olocausto spesso tende a negarlo. E quindi a quel punto non c'era più possibilità di mediazione e la scelta non poteva che essere una, quella del campo di chi ci ricorda l'olocausto e cerca di aiutarsi a non fare gli errori che hanno portato alle tragedie di tanti anni fa. E non dalla parte di chi pur avendo qualche ragione dal punto di vista formale e contratualistico forse diciamo testimonia il negazionismo e testimonia valori che sono estranei alla storia e alla cultura di questa città. E poi anche dal punto di vista formale i turbamenti che si sono mostrati in questi giorni anche fra gli espositori del Lingotto per la presenza di Altaforte saranno una questione che se ci faranno causa saranno tutti da discutere e valutare nelle sedi opportune.